Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi di un libro fantasy che mi è piaciuto tantissimo, ovvero Mistborn, l'ultimo impero di Brandon Sanderson. La storia è ambientata nell'ultimo impero, un luogo veramente particolare perché piove cenere e le notti vengono inghiottite da nebbie fitte e tenebrose. Questo impero è governato da più di un millennio dal lord reggente, non un semplice sovrano ma una sorta di divinità. La popolazione è divisa in ska, ovvero la classe inferiore trattata come schiavi, e la nobiltà. Fra i nobili ci sono alcuni con un potere molto particolare, ovvero l'allomanzia. Questo potere deriva dalla capacità di utilizzare i metalli per acquire i propri sensi, rinvigorirsi, spostare i metalli e altre cose di questo tipo. I protagonisti della storia sono Vin, una ladruncola di 16 anni, molto introversa, abituata a non fidarsi mai di nessuno, e Kelser, un ladro dal passato abbastanza singolare. Kelser vuole vina all'interno del suo gruppo di ladri, che è un gruppo molto particolare, infatti si fidano fra di loro, sembrano quasi dei veri e propri amici, e inoltre vogliono ribellarsi al lord reggente. Questo libro lo stavo cercando da almeno un anno, non l'ho mai visto in formato cartaceo, in nessuna libreria, su internet costava veramente una follia, perché già di per sé il libro cartaceo dovrebbe costare tanto, ma poi c'erano anche delle spese di spedizione assurde per un libro veramente fuori di testa, non l'ho più visto cartaceo, e l'ho trovato in offerta sul sito della Fanucci come ebook, a 2,99€. Mi sembra che sia ancora in offerta, nel caso vi lascio qua sotto in descrizione il link, e quindi l'ho acquistato, e sono veramente felice finalmente di averlo trovato, perché questo fantasy veramente è una cosa assurda. Partiamo dall'ambientazione, quando uno si immagina un luogo fantasy, si immagina senz'altro un mondo in cui vorrebbe entrare, un posto magico, fatato, invece qui è proprio l'esatto contrario, non vorresti mai andare nell'ultimo impero, piove e cenere, cioè vi immaginate tutti i giorni piove e cenere, tutti sporchi, non c'è un angolo pulito in città, gli ska sono trattati veramente come degli schiavi, la notte c'è la nebbia che ti mangia praticamente, ci sono delle leggi orribili, cioè chi vorrebbe andare nell'ultimo impero? Poi, l'allomanzia, wow, cioè è talmente ben fatta, ben costruita, Brandon Sanderson ti racconta veramente tutto nei minimi dettagli, alla fine del libro c'è anche una sorta di riepilogo di tutte le capacità, di tutti i metalli che si possono utilizzare per l'allomanzia, e è così ben costruita appunto, che tu ci credi, che è talmente, può essere vero, può essere vera questa cosa e quindi dà un tocco veramente magico alla storia, perché tu ci credi che esista l'allomanzia, è davvero una figata secondo me. I personaggi sono fantastici, ho adorato non solo i protagonisti, ma anche i personaggi secondari, man mano che la storia si sviluppa conosciamo sempre qualcosa di più su di loro, sono super ben costruiti e i protagonisti sono wow. Kelser io l'ho adorato, non è il tipico capobanda, ha una faccia un po' da sbruffone secondo me, ma anche un suo lato molto tenero, poi la sua storia mi ha davvero commossa, come mi è piaciuto tantissimo il suo rapporto con Vin, e in Vin mi sono vista tantissimo perché è una ragazza molto minuta, abituata a non fidarsi di nessuno perché viene costantemente tradita, in primis dal fratello, e si è sempre considerata una persona inutile. In questa storia invece avrà ruolo diciamo più importante, principale, e quindi si renderà conto di non essere inutile, che ha un valore anche lei, che ha una forza dentro enorme. La storia è molto originale, non è mai scontata, ci sono un sacco di colpi di scena che tu sei lì, che leggi tranquillo, si prendono frutta e verdure, poi, oh mio Dio che cosa è successo! È davvero, davvero fantastico! Anche se è un romanzo molto lungo perché sono più di 700 pagine, la lettura per me non è mai noiosa, e è una storia veramente ricca di azione, a volte anche di riflessione, ma soprattutto di allomanzia. È spettacolare secondo me. Le cose non vengono mai spiegate tutte in una volta, ogni cosa avrà la sua risposta a tempo debito, e questa cosa mi è piaciuta davvero tantissimo perché a volte si tende a spiegare troppo in fretta magari come funziona una certa cosa, mentre lì hai spiegato tutto con calma, quando ti servirà a saperlo, lo saprai. Era da tantissimo tempo, forse dai tempi di Harry Potter che non leggevo un libro che mi tenesse veramente super incollata alla lettura, non volevo mai smettere di leggerlo, e è fantastico! Io mi sono innamorata di questa storia, non vedo l'ora di continuarlo perché è wow! Se vi piace il fantasy, ma il fantasy vero, in cui c'è azione, in cui c'è magia, diciamo, perché l'allomanzia non è proprio magia, ma è davvero spettacolare, dovete leggerlo! Che cosa state aspettando? Magari è un po' difficile da recuperare, ma questa non è una scusa! Questo è quindi Mistborn, l'ultimo impero, spero che il video vi sia piaciuto e che lo abbiate trovato interessante, fatemi sapere qua sotto se avete già letto questo libro, se siete curiosi di leggerlo perché se amate il fantasy non potete non leggerlo, mi dispiace, leggetelo perché è stupendo, è veramente fantastico! Pensavo non mi potesse piacere perché è un po' vecchiotto, ma neanche tanto, mi sa che è uscito tipo nel 2006, poi è molto lungo, avevo paura che fosse tipo Signore degli Anelli, quindi molto pesante, molto descrittivo, invece no, non vi annoierete mai, anche se è così lungo, è veramente fantastico, pieno di tante piccole cose che secondo me lo rendono veramente il fantasy per eccellenza, è davvero fantastico! Quindi spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima, ciao!